...di cuore. Ecco, maestro, ci avviciniamo al mandato. Ci sono tantissime parole che hanno scelto, no? C'è questa possibilità così sentita, così importante. Noi abbiamo scelto, dico noi perché insomma insieme ovviamente al dottor Simonetti, che dopo mi raggiungerà, abbiamo scelto delle parole molto semplici perché sono state dette da un uomo altrettanto semplice ma allo stesso tempo immenso che San Francesco. San Francesco, insieme ad altri frati e a uomini e donne che vivevano in quel territorio, aveva allestito il presepio di Greccio. Egli infatti voleva celebrare con ogni premura il Natale del bambino Gesù e chiamava Festa delle Feste il giorno in cui Dio, fatto piccolo infante, aveva succhiato ad un senno umano. Voleva che in quel giorno i poveri fossero soccorsi e sfamati dai ricchi e che i buoi e gli aseni ricevessero una razione di fieno più abbondante del solito. Se parlerò all'imperatore, diceva, lo supplicherò di emanare un editto per cui tutti quelli che possono debbano spargere per le vie frumento e granaglie in modo che in un giorno di tanta letizia e solennità anche gli uccellini ne abbiano in abbondanza. Quel giorno era il Natale ed era il giorno più bello dell'anno ed il fatto che Gesù fosse nato povero gli faceva ritenere la povertà una virtù regale. Infatti quando i frati radunati in capitolo gli chiesero quale virtù rendesse una persona più vicina a Gesù senza esitazioni e quasi aprendo il segreto del suo cuore aveva risposto sappiate che la povertà è una via particolare di salvezza. Il suo frutto è molteplice la ricchezza del cuore in sostegno della povertà dell'animo. Credo che un applauso lo meriti. Ecco, ci chiediamo un bis, maestro. Ce la facciamo a fare un bis, sì? Sì? Prego. Ecco, ci chiediamo un bis, sì? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti